Un Cristo per Trieste. No, non si tratta di una preghiera all'altissimo per concedere il miracolo di uno sponsor sulle maglie della palacanestro nostrana, ma del nome di battesimo della nuova ala piccola bulgara della squadra di Dalmason. Cristo Zahariev, classe 90, 1,98 per 90 kg. Il 25enne è stato MVP delle ultime finali scudetto in Bulgaria, con un campionato da oltre 15 punti di media. Nazionale bulgaro ha vinto due campionati nazionali, una Lega Balcanica e una Coppa di Bulgaria. Da tempo ritenuto da agenti addetti ai lavori un prospetto interessante, ha fatto un passaggio sia nelle giovanili della Panathinaikos che alla Fortitudo Bologna. L'ex academic Slewski Sofia è un grande penetratore e tiratore dalla media distanza, il classico go to guy in versione balcanica, a cui affidare il pallone che scotta nel momento chiave della partita. L'incognita sta tutta nel suo adattamento in un campionato come la Lega 2 Gold, tenendo presente tra l'altro che trattandosi di un passaportato, Mario Ghiacci ha potuto così tenersi libera la casella per un ulteriore extracomunitario in caso di problemi. Cristo arriva a due giorni di distanza dalla firma dell'altro straniero, l'allround Jordan Parks, il cui biglietto da visita su YouTube elettrizza gli amanti delle schiacciate spettacolari. Slam Dunk a Mulinello a parte, si tratta di una scommessa vera e propria, uscito da North Carolina a Central con 15.6 punti, oltre 8 rimbalzi, una stoppata di media e alla prima esperienza europea. 21 anni d'età e di fatto anche lui un altro giovanissimo. Buon difensore, capace di inanellare 13 doppie doppie nell'ultima stagione, con i suoi 2 metri e un centimetri, giocherà nel ruolo di ala forte. Fisicamente esplosivo ma con meno massa muscolare rispetto all'indimenticato Holloway, ha firmato un biennale con possibilità di uscita dal contratto per ambo le parti. Jordan è un atleta che fa dell'energia e del grande entusiasmo che riversa sul parquet il proprio modo di concepire il basket, spiega coach Dal Masson. Il nostro compito sarà quello di aiutarlo e agevolarlo il più possibile in quella che è di fatto la sua prima esperienza lontano dagli Stati Uniti.